Oroscopo del giorno. Venerdì, 15 dicembre 2023. Ariete. Amore. Il venerdì di metà mese sarà caratterizzato da tanta serenità, in amore e nella vita privata. La giornata in corso sarà molto tranquilla, anche per chi è ancora single. Lavoro. Mercurio sarà sfavorevole, ed in effetti potrebbero esserci alcuni problemini sul posto di lavoro. Toro. Amore. Occhio a questa giornata, in cui in amore le cose non andranno poi così bene. Vi ritroverete a dover lottare con una posizione di venere tutt'altro che buona, che non aiuterà nessun rapporto. Lavoro. Bene per il lavoro, dove grazie anche al sostegno delle stelle, potreste raggiungere degli ottimi risultati. Gemelli. Amore. Oggi le emozioni non saranno in prima linea, tante che potreste mettere le relazioni un po' da parte. Forse siete un po' troppo concentrati su altro. Lavoro. Vi sentirete piuttosto stanchi durante questo venerdì di metà mese. La posizione delle stelle, soprattutto di Marte, non aiuterà. Cancro. Amore. Bella questa giornata, per godervi le emozioni insieme al vostro partner. La buona posizione di venere, potrebbe portare qualcosa in più anche a chi è ancora single. Lavoro. La posizione di mercurio in opposizione quest'oggi, potrebbe portarvi un paio di problemi in ambito professionale. Leone. Amore. La posizione del pianeta dell'amore per questo venerdì non sarà buona, e potrebbe portarvi diverse difficoltà sentimentali. Una giornata in cui dover fare attenzione a tante cose. Lavoro. Tutto tranquillo sul posto di lavoro, anche se non sarà un giorno troppo fortunato. Vergine. Amore. Bene la posizione di venere per voi quest'oggi. Questo significa che in amore tutto filerà liscio, sia per chi è in coppia, e sia per chi attende ancora di fare un incontro interessante. Lavoro. Congiovo dalla vostra, in questo venerdì i progetti professionali potrebbero avere una marcia in più. Bilancia. Amore. Questa sarà una giornata tranquilla, ma con poche novità sentimentali in fatto di amore, di coppie, o di conoscenze nuove per quanto riguarda i single. Venere, soprattutto dopo la prossima settimana, inizierà a portare emozioni più forti. Lavoro. Mercurio sarà sfavorevole, e questo giorno di metà mese potrebbe rivelarsi un po' incomplicato per il vostro lavoro. Scorpione. Amore. Oggi i single potrebbero essere molto fortunati, in quanto un incontro nuovo potrebbe portare a delle novità sentimentali, all'inizio di una nuova storia. Anche per le coppie sarà una giornata abbastanza positiva questa. Lavoro. Bene la posizione di Mercurio, che potrebbe portarvi buone nuove sul posto di lavoro. Sagittario. Amore. Un venerdì con una buona posizione di venere per voi. Le coppie potrebbero pensare ad un passo importante, mentre i cuori liberi potrebbero fare una conoscenza particolarmente interessante. Lavoro. Giornata molto positiva pure per il lavoro, in quanto avrete delle ottime energie da poter investire, in compiti e progetti. Capricorno. Amore. Un venerdì di metà di dicembre che potrebbe riservarvi davvero tante emozioni. Con la persona che avete al vostro fianco, potrebbe esserci una passione importante e tutta da vivere. Lavoro. Con Mercurio in congiunzione, è possibile che avrete a che fare con una fantastica giornata per il lavoro, tra risultati e soddisfazioni. Acquario. Amore. Il pianeta dell'amore per quest'oggi sarà in una posizione sfavorevole, ed infatti non vi porterà verso nulla di buono, sia in coppia, e sia per chi è ancora single. Meglio evitare delle discussioni con la persona che avete al vostro fianco. Lavoro. Tutto stabile sul posto di lavoro. Le novità arriveranno, ma non oggi o domani. Bisognerà attendere circa una settimana. Pesci. Amore. La posizione di venere per questa giornata di metà dicembre sarà assolutamente positiva. Le emozioni non mancheranno, e potrebbe giungere anche qualcosa in più. Lavoro. Per il lavoro oggi andrà tutto ok. Potrete continuare ad impegnarvi senza intoppi.